bella ragazzi siamo i grass siamo tornati qui con un nuovo video ultimi team di nuovo siamo con la nostra squadra incredibile la maccaron zeta e abbiamo comprato altri giocatori nel frattempo allora abbiamo comprato lui che è con grey con grey e poi abbiamo comprato ball una rottura del ball comunque si andiamo a giocare e dovrebbe essere un po meglio abbiamo due partite due sconfitte gioca partita ma per serio bioteam dice oh finalmente forse possiamo vincere sto game manca qualche oro questa partita forse la vinciamo vai subito se te la dita il cazzo marita la posso pure passare ok passa su e se non scatti non direttava eh Tinoff lui sarebbe il terzino eh vedi tuo cazzo sta a giocare ma noi siamo un buco mamma mia guarda il terzino come fa alto proprio il lavoro che vuole fare vai di premilla vai dritto che ci segni tu madre oh dai confè 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 sotto hai dato ancora dalla cuora no 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 fuori gioco dai da mortacci tua ma porco due ho intercettato la vita ancora bella ancora sì ma te la passo no ma no ma tanto di testa nabia vai tu madre e pure la tua è un'altra porta la tua ma che detacco ma che cazzo è oh 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 ma mia pare veramente partire fra bambini rega dove si fanno ammucchiate proprio perché la d gioca la scusa cioè il terzino perché non sa da andare secondo me non è la posizione sua capito va a spasso eh oh porca puttana eva ma faffa non potevo perdere pure questa ma gli è passata sotto le gambe annazi oh non riuscivo a toccar palla ma com'è sta cosa scusa cioè famo l'acquisti nuovi e poi fammo schifar cazzo mamma mia ma potremmo cambiare sto portiere del merda no deve rimanere da chi ti sei cura e maccaron ma sti cazzi ma magari more rega 10 mi piace 10 mi piace così pochi rega sarà a 2000 mi piace faremo buffa racconta maccaron bella subito bravo guarda guarda quello sotto guarda idolo appoggiata potevi tirare tranquillamente rigore ma quale rigore ma te lo sogni hai visto c'ho tanto a fa così ho capito ma tanto così è meglio di niente ma che cazzo sta a dire tanto inutile coglione mamma mia dai dembélé bello così bello de papà balle forte vai vai che io so partito vai vai sconvolti i ciechi copra questo maggetto mixtape anche se è gratis a chi la do a lui a quello sopra ti prego fallo tira ma quanto sei più che ho fatto da solo cing cing bing bing ciala ciala oddio oddio chi che era dammi il rigore ti prego ma lo sai come si battono i rigori ma come oggi non sbagliato uno perché non sapevo come si batteva ecco no se vabbè tirate la precisione segna no tirate le fiole di bronzi coi bronzi dall'altro porco due il so se è che babbaro sotto casa mia nazi de merda cittua due volte davanti alla porta guarda guarda che sta fa se te non ci vai guarda che è il tuo figlio e poi gli do pala a lui sti cazzi per un tanto gli ha la levi sta a far 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 come cazzo gli pare mamma mia mia villa fenomeno dove ho messi guarda quello buona vedi cazzo di passaggi che ti faccio dai però ti prego fallo vaffa il culo mamma mia non vi sta frutta mamma mia non vi sta frutta di cazzo di passaggi che ti faccio io ma perché li ho fatto io ma davvero sta la nazi che è così forte vabbè 2 a 1 dai abbiamo almeno un punto famo ti prego ma che famo gli allevamo no dai ma che è no vabbè che è quando si è fermato pure io perché ero convinto l'avessi presa ero proprio convinto ma che vuol dire male male madonna matunna matunna perchè non vinciamo non lo so ma tanto io gioco fino a che non vincevo stavo in crisi crisi di grana crisi profonda porco te abbiamo iniziato mo che cazzo cioè inizio campionato è già crisi e il primo game di oggi rockstakers vs skt beh abbiamo perso già la prima bene così vabbè abbiamo mille cosi da spende poi forse lo compriamo qualcuno dei decente eh intanto che cazzo compriamo dobbiamo prendere il terzino destro ma io dico se no scusa ma se aspettiamo famo a stecca un'altra partita poi li ammazziamo e compramo uno meglio comprato intanto a base poi dopo comincio a comprare quelli un po' più forti eh terzino destro assolutamente in portiere a questo punto famo taci tua ma metti quello che c'èmo da 70 intanto ecco eh guarda che grande bella ma vaffa culo non tempo perché stanno quei cazzo cinesi che che comprano loro cominciamo a prendere forma eh poi allora poi mancano gli esterni e sono tutti francesi ah per portiere grazie grazie si scommette che da un da adesso un po' iniziamo a vince perché hai visto che cazzo è si però c'è qualcuno questo c'è al 74 attenzione vediamo se possiamo vincerla manco per il cazzo forse la vinciamo no forse si ok va bene dai va bene va bene c'è una morti fuori ruolo sta messo male dai andiamo a vince spostami un altro po' così ci vedo proprio andiamo a vince cazzo così guarda do it dillo do it bello mamma mia che enfasi eh si vince ma che era quella just do it esatto e tanto poi l'hanno carcerato perché si fa delle bombe dai ora si vince guarda da più quanto è bello guardalo mamma mia se lagga eh ma che lagga voglio non ho capito c'è che connessione del merda che c'hai oh ho wise ah si guarda mi sento proprio sicuro con sto portiere e posso andare proprio avanti dai no non possiamo perdere questa non fa un cazzo guarda da più guarda guarda che classe guarda che passaggi perché non la passi perché come cazzo la passo tre difensori dalla dietro lo facciamo così la giriamo ma stai buono vieni non è vero la grossa no no porco due non riesca a giocare con sto lag de merda ah tu pure io fa poco avanti così c'ho i ragazzi degli... oh ti ho segnato no la pureva ancora anche lo sto coglione cacca la colpa è sua non mia vabbè eh da adesso non ci vedete più magicamente perché c'è stata di ma perché si senta dai vedi questa mancava la donna la faceva entra comunque si è finita non c'è più spazio sulla facecam sulla webcam oh non abbiamo più spazio e quindi si è chiusa la registrazione dato che noi siamo youtuber molto professionali non ci siamo ricordati di svuotare la webcam le palle le palle le palle prima di giocare e quindi sentirete la telecronaca intervengo da Milano si dove ci sta provando ecco oh 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 ho 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 visto quello che cazzo ti ha fatto mani dice incazzo ci sta provando in tutti modi a mettere questa palla dentro e non ci cazzo eh oh mamma mia si sta messo male eh Tu madre è troia, papà fa un culo Pezzi di merda Dai, basta, per favore, schifa Dio, è buona, è buona Perché non lo so, sta a fa tutto Oh, 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 il capin Mortacci, tu, passala dietro Passala Sì Perché guardo là, non c'è un cazzo Sì, mamma mia Come ho preso per pannone sulla linea Voi non ci state vedendo, ma noi stiamo Peseggiando animosamente Tantissimo, veramente un bot Regà, porco tu Guarda, passa No, ma questo pare che devi fare un passo Prima di passarla, non la può passare subito, capito? Non so se non mi tocca l'espiegato Passo ancora, passo ancora qua Sto a passare, aspetta, tira il volo Rigore, rigore, rigore Come si battono? È un casino, non lo so Ma ancora come si battono Fallo rosso, chiara occasione da gol Guarda, taschino Tocca il culo E vai E dai E forse ce la portiamo a casa Mirko Valdifiori se ne va Che non era Benassi, ma era Valdifiori Ma che cagato Ma stai scherzando? È gol Ma stai scherzando? Ma che? Ma non è subito a me Allora, io non saprei che tu lo spingi così Non ho spinto niente Ho fatto Se tu muovi la freccia Parte il giocatore, lo sai? Perché? Se tu Basta che muovi la freccia Il giocatore parte Ah Quindi se tu non spingi il quadrato Gli fa un passaggio al portiere Ma davvero? Io così l'ho fatto Prima Oh, regà Doppio vantaggio incredibile Meritatissimo tra l'altro Perché ovviamente stiamo giocando Di triste Dominata Bernard Che pare che sognava? C'è fatto è che C'avevo molto più fiato io di te Cambia tutto Cambia tutto Può ancora farlo Sei ancora in tempo Cambia tutto È buono Passa sta palla Stai buono Te stai zitto Invece che parlare ogni due secondi Dio santo Ci sei arrivato in porta Ma adesso che da una pizza in faccia Mi hai fatto lo sigatro Che palle Cambia tutto Dalla De qua De là Lo so quello che faccio No, non lo sai Lo so Guarda chi ci sta in mezzo Non so quello che faccio Lo sai quello che fai Non ti rompo i coglioni come fai te Dove? È angolo Perché non vado a tolare Ma guardami C'è lo stop di un ragazzino Dei due anni Cioè Stoppo meglio io Non so giocare a carccia Raga Mamma mia Finalmente è una partita Dove dominiamo ragazzi Finalmente Mamma mia però Piotta solo Poi proprio Non c'ha manco il cervello Mamma mia che bello Soddisfacente proprio Eh però Porco due Ma arrivai sull'esterno No Ma che cazzo E finisce qui Finalmente regà Riuscimo a giurci una partita Incredibile Comunque Già stanno fa un intro Senza che voi ci vedete Comunque noi ci mandiamo I nostri mille gold Come sempre Più quelli della vittoria Sono mille e cinque Va benissimo Ragazzi Se vi è piaciuto questo video Considera a supportare Monpellier Che per i prossimi risultati Ho spero che cambierà Nome Nome Tre punti finalmente Forse ce la facciamo Essere promossi Nonostante tutto Con queste partite rimaste Dobbiamo fare due vittorie Ce la possiamo fare E niente Lasciamo i like Seguiteci su Instagram E cazzi vari Come sempre Forza sempre Monpellier Con questo stemma Dei merda Dei draghi Bella